Oggi l'Ocse ha pubblicato uno studio, un report, che dice che l'Italia deve abolire quota 100 e deve stare attenta al reddito di cittadinanza perché può creare un tipo di lavoro deviato. Ora, io voglio dirlo con molta franchezza, l'Ocse è quella che a novembre-dicembre dell'anno scorso ci chiedeva di non abolire la legge Fornero e noi, siccome l'avevamo nel contratto di governo e l'avevamo promesso agli italiani, abbiamo superato la legge Fornero con quota 100. Però voglio spiegarlo a tutti coloro che seguono questo governo e ogni giorno vedono la minaccia della pioggia dei cavallette da parte di qualcuno che viene qui e ci dice che se non facciamo come dicono loro l'Italia crolla. Quello che stiamo portando avanti è un percorso. Noi siamo al governo da circa nove mesi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere in sicurezza delle fasce sociali. I truffati delle banche e il MEF deve solo firmare questo decreto e lo faccia il prima possibile. Il reddito di cittadinanza che significa investire nella formazione che significa anche attrarre investimenti se investi nella formazione delle persone. E quota 100 che sì significa mandare in pensione delle persone ma significa anche liberare dei posti di lavoro di quelli che vanno in pensione. Ora, queste misure, quota 100 e reddito, contribuiranno in parte alla crescita economica del Paese, ma non solo quelle. E noi siamo a soli nove mesi di governo. Ora, dobbiamo continuare il percorso per mettere questo Paese sulla strada della crescita sostenibile e dello sviluppo economico, perché quelli di prima l'avevano messo sulla strada sbagliata, questo Paese. Cioè, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il salario minimo orario, che è in discussione al Senato, che significa che per chi lavora, se lavori, devi poter arrivare di diritto a fine mese, se no non è il lavoro, è sfruttamento. Ma significa anche contrastare il dumping salariale per la maggioranza delle imprese che invece è sopra la soglia del salario minimo e si comporta onestamente e subisce la concorrenza sleale delle imprese che invece, quelle poche, che non si comportano bene. Secondo, dobbiamo aiutare le famiglie che fanno figli. L'ho lanciato stamattina, è un pacchetto che entrerà in aprile nel DEF, nel documento di economia e finanze. Le giovani coppie che hanno figli devono avere il 50% di sconti sui pannolini, come succede in Francia, il 50% di sconto sulla retta dell'asilo nido, come succede in Francia. Qui la retta in Italia in media è 300 euro, con picchi fino a 500 euro al mese di pagamenti dell'asilo nido. Bisogna investire negli aiuti alle famiglie anche sugli sconti ai babysitter, anche perché in Francia fino al terzo figlio è così. Cioè, prendiamo il paese che cresce di più dal punto di vista demografico, cioè che fa più figli in Europa, la Francia, prendiamo quel modello e lo portiamo in Italia, che è l'ultimo paese che fa figli e non per colpa dei giovani, che molto spesso se ne devono andare all'estero o se restano qui hanno difficoltà ad affrontare le spese di un atto di amore, che è un figlio che però, proprio perché è un atto d'amore, lo vogliamo mettere al mondo e assicurargli tutte le possibilità che può avere un bambino francese o tedesco. Inoltre non è finita qui. Stiamo per mettere e approvare in Consiglio dei Ministri il decreto legge crescita, che significa nuova finanza di impresa, più accesso al credito per le aziende, meno burocrazia, tutela dei marchi storici, cioè i marchi storici del Made in Italy non vanno più all'estero, ma restano in Italia. Facciamo una serie di provvedimenti che mettono soldi nello sviluppo economico dei territori, nei contratti di sviluppo, cioè un decreto che finalmente darà una mano alle aziende. Inoltre c'è il decreto che stiamo per approvare, che è il decreto sblocca cantieri, che significa che mettiamo finalmente fine alla storia che si sa quando si apre un cantiere e non si sa più quando si finisce. E se c'è un cantiere che in questo momento è bloccato per burocrazia, lo sblocchiamo nominando un commissario ad hoc con i poteri che servono a sbloccare la burocrazia di quel cantiere. Significa centinaia di migliaia di posti di lavoro in più. Allora, questo è un percorso, ma noi siamo al governo da nove mesi, e non ci si può chiedere oggi, all'inizio, al primo giorno del quarto mese del 2019, di abolire una misura che abbiamo approvato quattro mesi fa perché già non sta funzionando. È un pacchetto, è un contratto e ci dovete dare il tempo di realizzarlo. E se permettete, io tra l'Ocse e gli italiani, ascolto prima di tutto gli italiani, perché in questo momento noi se vogliamo essere il governo del cambiamento, dobbiamo mantenere fede alle promesse. In questi mesi abbiamo fatto delle importanti politiche per le imprese. La firma dell'accordo sulla via della seta, che è solo un accordo commerciale, serve ad aumentare le esportazioni. E in questi giorni la stessa Confindustria ha detto che per avere degli effetti sul PIL nei prossimi mesi, quindi sullo sviluppo economico e la crescita sostenibile di questo Paese, dobbiamo investire di più sulle esportazioni. Bene, l'altro giorno a New York, all'ufficio dell'Istituto del Commercio Estero, abbiamo presentato il piano straordinario del Made in Italy. 140 milioni di euro di investimenti per l'esportazione del Made in Italy nel mondo. È la più alta cifra mai stanziata per l'esportazione del Made in Italy. Però l'abbiamo stanziata a dicembre. Non si può pensare che abbia già tutti gli effetti all'inizio del quarto mese del 2019. Io questo concetto lo voglio ribadire perché noi siamo al lavoro per mettere sulla strada giusta questo Paese, ma dobbiamo anche avere il tempo e non ci si può chiedere ad aprile di tornare già indietro sulle scelte di dicembre, cioè su quota 100, sul reddito, che sono solo due delle misure che abbiamo realizzato in un percorso per rilanciare l'Italia e farla diventare ancora più forte di quella che è in tutta Europa e nel mondo. Ciao.